Questa sera io e il maestro Vincenzo Rana saremo alla Masseria Valesi all'interno del Festival della Valle d'Itria per un concerto da camera, anche se non è esattamente così per il programma che faremo. Ci sarà una prima parte di musica francese e una seconda parte di musica tedesca. Diciamo che un filo che abbiamo seguito è partire dalla vita terrena fino ad arrivare alla vita celeste. Quindi ci saranno dei drammi delle eroine francesi, Alceste, Didon e La Saffo. E poi cambieremo totalmente il repertorio e l'ambientazione e passeremo alla letteristica dell'esca vera propria con Strauss e Mahler. Finendo con uno dei recruit leader che è una perla per quanto mi riguarda della mosca artistica dell'esca e cercheremo di farvi toccare delle mete importanti. Quindi vi aspettiamo questa sera numerosissimi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.